Ciao a tutti e benvenuti su TechGaming Molti mi chiedono dove è possibile scaricare dei banner, come si creano dei banner per il proprio canale Twitch e così via dicendo Quelli che vedete davanti a voi e che poi sono quelli che ho nel mio canale Twitch li ho creati io Sono molto molto semplici alla fine perché non me ne intendo molto di grafica ma diciamo sono molto semplici Se volete creare qualcosa di questo tipo allora cercherò di darvi delle dritte in questo video La prima cosa da fare è quella di scegliere una dimensione Ora come potete vedere ci sono diverse dimensioni C'è questa che è praticamente quella di default che mi ha dato appunto Instant Gaming per la partnership E poi ci sono i banner che ho creato io Se volete lavorare su questo bannerino piccolino dovete salvarlo Ora se salvate l'immagine su Twitch normalmente non potete modificarla Quindi andate sul mio canale ad esempio e poi andate su informazioni e trovate i banner Ora io utilizzo una comoda estensione per Google Chrome che come potete vedere vi permette di salvare le immagini in tre formati Quindi per poter fare questo dovete scaricare l'estensione in questione che si chiama Save Images as Type Nella descrizione del video vi riporto il link se utilizzate Google Chrome Una volta che avete installato l'estensione quando cliccherete con il tasto destro su una qualsiasi immagine vi spunterà fuori questa voce Quindi salvate l'immagine come JPEG ad esempio e chiamatela banner Ora aprite Photoshop e aprite poi il banner che avete salvato in precedenza Ed eccolo qua Quindi potete lavorare su questa dimensione Ora abbiamo bisogno di tre cose Dello sfondo, del logo e del font Quindi se volete ad esempio sponsorizzare che ne so il vostro Twitter, il vostro Facebook eccetera Dovete ovviamente procurarvi il necessario Quindi se andate su questo sito che vi riporto sempre nella descrizione Troverete tantissime immagini PNG Quindi con sfondo trasparente Quindi ad esempio se volete pubblicizzare Twitter Digitate nel search Twitter E ecco la foto Non salvatela in questo modo ma fate preview, free download Attendete e salvate l'immagine In questo modo viene salvata diciamo nella maniera corretta Ora andate qui per importarla Quindi file apri Twitter Ora avete bisogno di uno sfondo Quindi andate su Google e sceglietevi uno sfondo Possibilmente che non infrange il copyright Ora io utilizzo uno sfondo a caso tipo questo per farvi vedere Quindi faccio salva immagine e salvo lo sfondo Torno su Photoshop Vado qui Faccio file apri E prendo lo sfondo Ora ho lo sfondo e Twitter E il mio banner E il mio banner vuoto Chiudo il resto che non mi serve Ok Ok Adesso ho il banner Twitter E lo sfondo Prendo lo sfondo Quindi clicco qui Con Photoshop Questa iconcina qui Seleziono lo sfondo E faccio CTRL X Sulla tastiera Adesso vado In banner E faccio CTRL V Sulla tastiera Come potete vedere L'immagine è gigante Ora O l'adatto in questo modo qui Oppure la scalo Per scalarla Andate su Modifica Trasforma Scala E quindi Diciamo La scalate Come preferite Ora io faccio una cosa bozzata Per farvi vedere come funziona E premete invio Quindi Facciamo finta che questo è il nostro sfondo Adesso Dobbiamo prendere il logo di Twitter Quindi selezioniamo Di nuovo tutto Facciamo CTRL X Andiamo qui CTRL V Modifica Trasforma Scala E Scalate l'immagine Come potete vedere Non c'è nessuno sfondo dietro Twitter Perché Appunto È un'immagine PNG Trasparente Quindi Diciamo Facciamola così piccola E mettiamola qua Premiamo invio Ora avete bisogno del font Quindi Cliccate su T E qui digitate Ad esempio Twitter Ora io utilizzo questo font Che diciamo Come colore Ho personalizzato Ma da qui Poi potete decidere Diciamo La colorazione Se cliccate due volte Sul font Potete comunque Modificare Vari parametri Ora io sto facendo Una cosa bozzata Quindi se seleziono Il font Poi me lo modifico Diciamo In base alle mie esigenze Quindi posso scegliere La colorazione Posso crearne Più di uno E sovrapporlo Per fare l'effetto 3D E eccetera eccetera Quindi Una volta che Siete soddisfatti Del risultato Ottenuto Salvate l'immagine Ora io Riscrivo Twitter Perché non mi piace Questo colore Rimetto verde Come stava Ok va bene così E quindi ci sono due modi Adesso di salvare L'immagine Allora Se salvate L'immagine In questo modo Quindi salva con nome E salvate Nel formato PSD PDD Potete modificarlo In futuro Quindi senza che Dovete poi rimodificare Lo sfondo Eccetera eccetera Modificate direttamente Il font Il logo Eccetera Per fare magari Altri banner Se volete impostarlo Poi su Twitch Fate salva con nome E salvate Il banner Nel formato JPEG Quindi diciamo Salvate il banner In questo modo Cliccate ok Ora quando andate Su Twitch E fate Modifica riquadri Aggiungete Un nuovo riquadro Cliccate qui Cliccando su Aggiungi immagine E selezionando Poi il banner Che avete Creato In precedenza E avete salvato Come potete vedere Cliccando su fine E poi su fine Poi qui ovviamente Potete compilare I campi Come preferite Ovviamente Visualizzerete Il banner Da voi creato Quindi togliete La spunta Qui E come potete vedere È comparso Per magia Ora la qualità Fa schifo Perché ho fatto Una cosa Molto veloce Però Questa diciamo È la procedura Che ho utilizzato Per creare I miei banner Personali Nel canale Twitch Se questo video Vi è servito Cliccate sul pollice In alto Iscrivetevi al canale Per qualsiasi domanda Non esitate a lasciare Un commento Non esitate a lasciare Lecce M Survey Non esitate a que fa Ofre Un bag anybody